Una speciale altalena pensata esclusivamente per i bambini disabili per aiutare a superare ogni barriera e giocare accompagnati dai propri genitori o da un adulto accanto ai propri amichetti. È quella che è entrata in funzione al giardino pubblico Giuseppe Coletti di San Severino Marche. L'altalena è stata donata al Comune dall'Associazione 108 Una Scuola per la Vita e da tre club di tifosi sportivi del Palma, i Danè Parma 1973, il Circolo Arci Arturo Toscanini e il Centro Coordinamento Parma Clubs. La cerimonia del taglio del nastro è stata una doppia festa, come ci ha spiegato il primo cittadino settempedano Rosa Piermattei. La rimessa appunto decentemente di questo bellissimo giardino monumentale di San Severino Marche e la donazione di un gioco da parte di donatori che sono venuti da Parma a portarli a questo paese così duramente colpito dal terremoto. Tanti bambini, finalmente un momento di gioia dopo le difficoltà vissute negli ultimi mesi, questo vuole essere anche un esempio. Sì, è un grande esempio, una grande necessità di avere i giochi. Come possiamo vedere i giochi sono vecchi e quindi non abbiamo la disponibilità. Io confido in altri buon cuore di altri donatori perché ne avremo tanto bisogno. Per noi è un grande successo, la prima volta che affrontiamo un'iniziativa di questo tipo siamo veramente orgogliosi del risultato raggiunto e grazie a Associazione 108 per averci dato la possibilità di contribuire alla loro rinascita. Noi avevamo questo progetto in cantiere, questa raccolta fondi per questa altalena per disabili. E incontrandoci l'abbiamo unito, l'abbiamo unito e è nata un'amicizia bellissima perché ci siamo voluti subito bene. Sono stati fantastici, cioè proprio non pensavamo che dopo due anni di sofferenze e così riuscivamo ancora ad ottenere questi risultati. Siamo un gruppo di mamma e papà molto caparbi, quindi nati dopo il terremoto, quindi ecco abbiamo questi obiettivi qua. Cercare di aiutare il più possibile chi ne ha bisogno. Avevamo questi giardini che non erano propriamente idonei per accogliere bambini disabili e abbiamo dirottato la nostra iniziativa qua.